Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Libro di Isaia, capitolo 55, versetto 6 Dio è vicino a chi lo cerca. Un cliente andò dal barbiere per tagliarsi barba e capelli. Come sempre parlavano del più e del meno, senza mai toccare il problema della salvezza dell'anima. Finalmente quel giorno se ne presentò l'occasione. Il barbiere cominciò a dire che se Dio esistesse veramente, non ci sarebbero né sofferenza né dolore. Il cliente stette a pensare, ma non rispose. Il barbiere finì il suo lavoro e lui uscì. Appena pochi passi dal negozio, vide per strada un uomo con capelli e barba lunghi. Allora il cliente rientrò nel negozio del barbiere e insieme all'uomo dall'aspetto trasandato, dicendo che i barbieri non esistono. Il barbiere rimase sorpreso e rispose che questo accade perché le persone non vanno da lui. A quel punto il cliente spiegò che il mondo è pieno di dolore e sofferenza perché le persone non vanno dal Signore e non lo cercano. Dio esiste. La Bibbia afferma che Egli si lascerà trovare da coloro che lo cercano con tutto il cuore. Questo è il tempo di cercare il Signore. Ricevi il suo perdono e accettalo oggi come tuo personale Salvatore. 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 Salvatore.